il jazz showcase è uno dei locali più famosi e longevi di chicago nel campo della musica jazz il programma è sempre molto ricco e variegato molti lo ritengono il locale dove poter ascoltare il vero jazz senza nessuna influenza il titolare è un simpatico ed arzillo vecchietto che ha fondato e seguito personalmente lo sviluppo del club fino ad oggi l'atmosfera è molto accogliente e le cameriere molto gentili e preparate i prezzi nonostante lo spettacolo di artisti di fama internazionale sono alla portata di tutti vi piace il jazz passate in questo locale le colonial lounge è un bar trendy e molto popolare soprattutto tra i più giovani residenti della città situata sopra l'omonimo ristorante questo locale vi delizierà con cocktail preparati a regola d'arte come ormai sapete claus ci tiene la qualità del servizio e dei drink offerti nei vari locali non si beve mai durante queste riprese visto che si parla sempre di bere di mangiare vuoi un drink l'atmosfera è rilassata perfetta per bere qualcosa prima di iniziare la vostra folle notte a chicago le coloniale è un ristorante vietnamita che come dichiarato nella presentazione sul sito internet vuole unire la cucina del sud est asiatico con gli ambienti dell'epoca coloniale francese il risultato finale è molto interessante anche l'ambiente risulterà certamente particolare ventilatore a soffitto legno tovaglie bianche e candele danno un'idea di eleganza e tranquillità nonostante i tavoli occupino la quasi totalità della superficie il servizio è impeccabile e la qualità del cibo molto alta per certi aspetti il locale ha un lato romantico e per questo spesso si trovano coppiette che lo frequentano per una serata di relax in stile coloniale i prezzi sono in linea con quanto detto finora vale a dire non eccessivi considerando la qualità dell'offerta e la location particolare situata in una zona centrale l'ambiente non chiede un dress code particolarmente elegante ma nemmeno da magliette pantaloncini quindi vestitevi casual e comodi ma non esagerate vi sentireste fuori luogo sono sarà la guida che vi accompagnerà